siamo in un bosco e un giorno scoppiò un grande incendio tutti fuggirono presi dal panico e dalla paura rimasero soltanto un cieco e uno zoppo in preda alla paura il cieco si stava dirigendo proprio verso il fronte dell'incendio non di là gli gridò lo zoppo finirai nel fuoco da che parte allora chiese il cieco io posso indicarti la strada rispose lo zoppo ma non posso correre se tu mi prendi sulle tue spalle potremo scappare tutte e due molto più in fretta e metterci al sicuro il cieco seguì il consiglio dello zoppo e i due si salvarono insieme ecco allora che insegnamento possiamo trarre se sapessimo mettere insieme le nostre esperienze le nostre speranze anche le nostre delusioni le nostre ferite le nostre conquiste ci potremmo molto più facilmente salvare tutti di